Questo è un paese nel quale se c'è un paese che si deve muovere su corporate venture è questo, questo è un fenomeno che ancora non succede. Io non credo che sia necessariamente una questione di bontà della tecnologia, come diceva Roberto, la tecnologia in Italia c'è, il problema è che quando vai a vedere il deal flow di gran parte dei veicoli che poi qui investono, molto spesso vedi degli investimenti che tecnologici non sono. Adesso io non so se il motivo è che gli imprenditori, quelli che hanno l'idea e la voglia di mettersi in gioco, poi alla fine sono più dei talenti umanistici, perché c'è anche questo aspetto di una tradizione italiana dell'imprenditore artista, passami in termini, mentre il tecnico fa il tecnico. Forse bisognerebbe anche insegnare ai tecnici a usare un pochino di più, cioè non è che gli israeliani o gli americani sanno tutto quanto, anzi a volte sbagliano e sbagliano clamorosamente, però si mettono in gioco. E poi c'è l'aspetto sociale del discorso, cioè far saltare una start up è assolutamente legittimo, le vindi Waze, Waze l'ha fatta al quarto giro, io ho avuto l'opportunità di essere il suo consulente in tre vite precedenti quando avevano una start up che è saltata, che aveva un'idea folle, che era quella di portare la posta elettronica sul telefonino e all'epoca nessuno capiva perché tu dovessi avere bisogno di leggere una mail sul telefonino. Questo tema lo riprendo perché qualche mese fa si è parlato molto del fallimento di Moisei Kuhn, come se fosse un reale fallimento, ora dirà poi della qualità, però quanto è importante che la start up abbia una vita, cioè un inizio, un percorso e una fine, piuttosto che necessariamente sia costruita per essere scalabile. Questa è una, voglio dire, noi siamo cresciuti sul tema della scalabilità, non dal fatto che è evidente, soprattutto sul digitale, per oggi ci dobbiamo anche confrontare con dei mercati che nascono e muoiono in termini abbastanza rapidi, quindi evidentemente sono percorsi che possono essere... Quanto siamo pronti a finanziare qualcosa che oggi abbia un inizio, cioè una vita e una fine prevedibile nell'arco di un certo numero di anni? Poi si diceva stamattina nel convegno di qui sopra che probabilmente il numero di start up che noi abbiamo in Italia è un po' eccessivo, cioè come sapete abbiamo superato 10-11 mila start up, una 12 mila, e diciamo che nel venture capital, nel mondo dell'innovazione alle start up si fanno delle, da scuola, no? Sono delle organizzazioni momentanee e temporanee alla ricerca di un modello di business e il cui obiettivo o creare nuovi mercati o distruggere mercati ormai troppo consolidati o sclerotizzati, delle due l'una, il che significa che rapidamente dovresti capire in un tempo ragionevole, in un ciclo di investimento probabilmente più ravvicinato se quella start up che è finanziato o PMI innovativa ha un senso oppure no. Quindi il fallimento è sostanziale e strutturale in questo tipo di approccio. Questo perché, presumibilmente, questa è una delle ragioni per cui metà delle quotate americane oggi sono venture backed e non esistevano, cioè la TVA non esiste più, Panam neanche, ci sono Starbucks, Tesla, Apple e quello che sappiamo, no? Quindi c'è il rischio rispetto al tema della maturità o meno dell'ecosistema. Io ho una visione positiva dell'ecosistema italiano, penso che ci siano founder, operatori, soggetti, talenti, tecnologici, imprenditoriali, credo che ci sia materia. Credo che sia mancato troppo a lungo il capitale per accelerare e questo ha PMIzzato la start up creando un tessuto intermedio che vive molto a lungo, i tempi di permanenza negli incubatori universitari come è noto somigliano alle lungodegenze e questo ha naturalmente reso, se vuoi, l'ecosistema meno cattivo tra virgolette perché magari non fallisci mai però ti trasformi in una ennesima piccola impresa o col modello della società di consulenza che non è un modello scalabile e così via. Quindi questo è un po' il... Chiede al nuovo fondo che si sta portando avanti ora poi parliamo degli spin-off che è uno dei grandi temi dell'academic spin-off. Nuovo fondo, dicevo, quanto approcciate questo mondo con il timore di fare immediatamente qualche write-off diciamo delle vostre investimenti? Allora, è vero che io sono nuova ma io faccio venture dal 2007 con dettori che sono stata project leader del programma di Team Book Up con Salvo. Da minorenne quindi? No, no, sono più vecchia di quello che siamo però sì, ero piccolina però in realtà io non sono d'accordo sul fatto che non ci siano talenti o imprenditori semplicemente, o meglio, sono d'accordo con quello che dice Salvo perché se pensi che in Germania in una settimana viene deployato sul mercato la stessa cifra che viene deployata in Italia con un fondo italiano e se pensi che diciamo in realtà la parte di tecnologia è una commodity la differenza la fai sulla parte di go to market quindi è vero, lato Israele sono bravissimi tutta la parte di cyber security hanno uno start-up nation basato su quello è anche vero che hanno deployato 6 billion in un anno cioè quindi è tutto proporzionato quindi da una parte la difficoltà e l'opportunità sta nel fatto che noi stiamo partendo adesso dopo tra virgolette 10 anni 15 anni di costruzione dell'ecosistema quindi anche io sono molto positiva da questo punto di vista e la parte se vuoi ma molto diretta che ti dico francamente è che se tu sei costantemente in fundraising perché non hai gli istituzionali che ti supportano non è che proprio inizia a fare write-off facilmente ma non è una questione di imprenditore perché l'imprenditore ha diciamo paura di fallire perché a volte anzi cioè lo sai anche tu lo sa anche l'imprenditore semplicemente la trasformi gli allunghi il periodo di vita cercando di far sì che nel mentre tu riesca a raccogliere dei fondi tali per cui magari riesci a dargli il boost erroneamente allora parliamo di uno dei temi diciamo caldi in questi ultimi anni e mezzo soprattutto del trasferimento tecnologico cioè la grande risolta la grande miniera diciamo del nostro paese quella che è considerata la grande miniera inesplorata del nostro paese soprattutto per tutta una serie di diciamo tematiche che riguardano il rapporto con l'università il tema delle pubblicazioni sappiamo bene quali sono come sono legate le carriere diciamo i nostri ricercatori e quanto poi diciamo questa carriera è legata alle loro pubblicazioni e quanto le pubblicazioni poi come dire fanno disperdere il valore di un brevetto il valore di un'idea non l'ho trovato e quindi rendono tutto molto più complesso i regolamenti spin off che sono estremamente farraginosi le problematiche diciamo accademiche allora la prospettiva di PoliHub che poi è stata la prima frontiera forse l'idea che ha anche come dire avviato il percorso di Itatec come vedi oggi il trasferimento tecnologico quello che chiama lei il go to market rispetto al rapporto tra trovato idea e mercato all'interno delle università e all'interno di acceleratori come il vostro si mi ricollego brevemente al tema della qualità su cui convengo che abbiamo tutti gli ingredienti in Italia per provare a giocare una partita di sviluppo di imprenditorialità innovativa di nuova generazione al pari almeno di quella europea vero anche che però ad esempio negli ecosistemi maturi e parlo del Nord America ma parlo anche della Germania le start up cosiddette che arrivano dalla ricerca gli spin off rappresentano circa il 50% del complessivo sviluppato dagli ecosistemi in Italia siamo sotto il 10% 5 e mezzo 6 siamo su una roba di questo tipo quindi credo che ci sia un forte tema invece di aumento della qualità del deal flow investibile in Italia soprattutto alla luce della mobilitazione strutturale di risorse ulteriori che per essere moltiplicate perché abbiamo la possibilità di moltiplicarle hanno bisogno di intercettare molto deal flow e di qualità e sicuramente i bacini universitari l'abbiamo sempre detto non ci torno infatti dicevo prima non mi ricordo a chi ha Roberto nonostante l'Italia stia disinvestendo nelle università perché l'investimento pubblico è diminuito del 30% anno su anno continuiamo ad avere dei primati internazionali sulle pubblicazioni pubblicazioni sono il primo al mondo pubblicazioni significa le referenziazioni che i nostri paper hanno sul circuito internazionale della ricerca ma anche a livello europeo però questo vuol dire disperdere la nostra tecnologia sì però anche a livello europeo attenzione conoscete la logica della tecnologia al momento in cui viene pubblicata non è più preventabile quindi diciamo noi abbiamo un problema enorme tra conflitto interesse tra il ricercatore che però ebbene no però ribadirlo come dire qua bisognerà diciamo intervenire lo dico a te perché diciamo prima o poi dovremmo intervenire anche su quel tema però Renato condivido allora un altro KPI che toglie l'alibi della non brevettabilità in Europa la comunità europea assegna a ricercatori eccellenti i cosiddetti IRC grant per sviluppare dei POC che possano poi avere sostenibilità di business per creare aziende bene noi italiani siamo i secondi in termini di numerosità di ricercatori finanziati dopo la Germania e molti nostri ricercatori prendono questi grant l'assurdo e vanno a fare aziende fuori perché non ci sono strutture oggi in Italia che assistano un percorso di trasferimento tecnologico strutturato quindi quali sono i problemi del tech transfer dal nostro punto di vista è un po' quello che abbiamo cercato di indirizzare con la nostra piattaforma di sviluppo imprenditoriale certamente c'è un tema nel manico proprio dell'incentivazione alla creazione di impresa dei ricercatori quindi è verissimo che la progressione di carriera tipicamente è legata al numero di pubblicazioni la nostra università oggi ha introdotto un ulteriore invece elemento di valutazione che è la creazione di spin off quindi i professori che creano spin off e creano più brevetti possono avere maggiori progressioni di carriera quindi sicuramente l'incentivazione di questa macchina organizzativa è abbastanza forte i limiti i limiti del fare start up dalla ricerca Roberto un po' l'anticipato è che sono start up che non nascono da un bisogno di mercato non c'hai l'imprenditore che ha il problema di business in mano hai un ricercatore sveglio che ha sviluppato una nuova tecnologia cioè prendi il problema dal punto di vista diametralmente opposto quindi tipicamente va attenzionato il potenziale di business ma soprattutto la capacità imprenditoriale del ricercatore di portarla sul mercato il secondo problema è che il gap è proprio la dead valley delle start up di IPTEC e che sono molto capital intensive sia dalla fase POC cioè mentre su digital fare un dimostratore con 10k telacavi con 15-20k telacavi nell'ambito di IPTEC ad esempio Elisa parlava della nostra start up LeafSpace cioè loro per fare il primo dimostratore hanno chiesto un milione di euro e non ce n'era bisognava dargli un milione di euro per giocare una sfida globale questo chiamo Gilibert su questo tema che è un tema veramente importante per il nostro paese comunque volevo intanto completare la mia risposta alla tua prima domanda il problema di uovo o di gallina cioè di uovo di offerta la domanda come dicevo quando sono arrivato al FEI abbiamo sviluppato un ottimo rapporto con cassa c'erano i soldi c'erano i soldi per l'Utatec per altre iniziative col fondo italiano si lavorava bene quindi loro portavano il 50% dei soldi e il FEI portava il resto il 50% quindi catalizzava il denaro europeo noi mobilizziamo in parte il nostro capitale in parte quello della BEI in parte quello della commissione e altri protagonisti adesso il problema era quello dell'offerta nel senso che la qualità dei fan manager che venivano a Lussemburgo a presentarsi era scarsa e non si noi abbiamo certe regole certe guidelines nell'equity che diciamo essere best market practice magari non lo sono ma comunque sono lì in termini di alignment of interest di track record di compliance e così via diciamo che su dieci che si presentavano italiani prendevi uno e poi io andavo in giro a dire perché purtroppo gli altri nove non avevano i caratteri requisiti quindi poco per volta la qualità è leggermente migliorata e adesso le cose vanno meglio adesso ci troviamo nel posto il denaro pubblico qui è sparito è da nove mesi che il mercato è fermo questo paese che va sotto elezioni ogni anno non possiamo dare soldi se non c'è un corrispondente invece deve essere un'alimentazione ma è chiaro per il trasferimento tecnologico credo che abbiamo giustamente con Cass individuato il trasferimento tecnologico come probabilmente un market gap maggiore in Italia in Italia sono centri di ricerca eccellenti a livello universitario anche a di fuori a cui il professor non ha un ricercatore alcun interesse a commercializzare la cosa mi ricordo nel 2014 che c'è il giro dell'università che è la scuola Sant'Anna Politecnico di Torino quasi mi ridevano in faccia cos'è il tech transfer cosa mi vedi a raccontare io sto bene così vivo bene nel mio articello vai e così quindi noi saremo ben preparati a fare un tecnologico 1 oro 2 c'è solo il problema che ci siano i soldi da parte italiana se non ci sono però voglio anche dire alcune cose ci sono anche altri modi sono stato a Monaco di Baviera due giorni 3-4 mesi fa, al mattino ho firmato con l'istituto di ricerca Fraunhofer, che è una cosa enorme, che copre tutta la Germania, sono 11.000 ricercatori, 60 milioni, contentissimi, loro non ci hanno messo altrettanto. Il giorno dopo, con il family office della BMW, quindi Susan Clatten, e il family office Ghetti, abbiamo non firmato, non è proprio firmato qui, ma Finance for Industrial Innovation. E questo cosa succede? BMW, o il family office di Susan Clatten, mette 50 euro di grant a un POC, noi gliene mettiamo altri 50. generalmente la forma è di prestito subordinato, lungo termine, convertibile, questi poi finanziano questi spin off e le cose vanno avanti molto bene. E' un modello che è facilmente replicato, adesso cerchiamo in Svezia e in Danimarca, di replicarlo con altri grossi family office. Purtroppo qui a Torino abbiamo fatto una fondazione molto famosa, un evento di questo tipo, però la famiglia ha deciso di non entrare. Però voglio dire, in Italia ci sono tante altre famiglie ben ricche. Sta dicendo una cosa, siamo ovvie, che poi la cultura che Roberto ha descritto sul piano imprenditoriale c'è anche sul piano finanziario, c'è l'assenza di cultura. Volendo altri, al di là del denaro pubblico, ci vuole, ci vuole, ci vuole, ma qui manca la volontà di fare. Sì, c'era un attimo, Jonathan. Io volevo dire che sto sentendo molto il tema dell'assenza dei capitali e non entro. Io, vedendolo da fuori, l'impressione è che uno dei grandi problemi sia la questione dell'attitude. Anche sul deep tech, domani sera, se non avete niente da fare, vi consiglio di guardarvi in diretta, la sonda israeliana, se tutto va bene, a terra, sulla luna. È un progetto privato, sono privati, è un NGO, è una start-up. Chi era dato la concessione di partire sulla luna? Ragazzi, è una start-up, sono due ragazzi che si sono guardati in faccia e hanno detto, mandiamo una sonda sulla luna. Allora, guardano a delle cose che stanno, guardano alla meta. La maggior parte delle cose che io vedo in Israele, anche quelle dove decido di non investire, mi fanno generalmente fare un salto sulla sedia per la Futspar. Sei venuto a vigliarci? No, 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 assolutamente no, è al contrario, abbiamo investito in una start-up che ha reinventato il link, la prima volta che ce l'hanno detto, tu esci, torni da pranzo, risiedi e ti arrivano due ragazzi e gli dicono noi avremmo reinventato il link e tu vuoi cosa? Però dopo che noi ci abbiamo investito, IBM se l'è presa dentro AlphaZone, adesso le stanno portando in giro, ci attaccano il loro motore di intelligenza artificiale, la roba gira. Sulla ricerca spaziale abbiamo visto una start-up che ci dice che c'è un problema di accuratezza del GPS, come è stato risolto? Galileo ha messo in orbita billions di satelliti. Veramente noi avremmo scritto qualche linea di codice che migliora il GPS, non c'è bisogno di cambiare un satellite. Ciao Natale. Allora, in questo senso è una questione spesso di attitudine. In Israele una delle cose che c'è è la consapevolezza che a volte si possono fare grandi cose con delle risorse minime. Salmo. No, volevo aggiungere anche a margine di quello che diceva prima Pierluigi. Sì, ci stiamo concentrando sui punti diciamo deboli, però analizzando quelle che sono le componenti di un ecosistema maturo è vero che va segnalata l'assenza di una serie di player. Il corporate venture che non è essenziale soltanto in quanto quanti soldi mette sul tema o meno, ma è essenziale perché fa girare la ruota, perché introduce elementi di attualità, concretezza, delivery, mercato e così via, è storicamente un grande assente nel mercato italiano. La media europea del contributo totale di funding per l'innovation è intorno al 30%, in Italia siamo molto lontani, siamo sotto il 5%, quindi le poche grandi corporate che sono rimaste, le poche grandi famiglie che sono rimaste, sono assenti da questo mercato e questo è un tema che noi scontiamo e lo scontiamo moltissimo nel go to market e in parte anche nel contributo in termini di funding. Questo è un pezzo, l'altro pezzo che manca è il pezzo, quello classico da Erisa Act, cioè le casse e i fondi, le casse di previdenza e i fondi pensione. Il contributo di questo mondo, sempre guardando la media europea, non sto parlando di Israele perché poi cambia tutti, se tu fai EU e Israel poi non ci capisci più niente perché cambiano le metriche, quindi EU senza Israel, 30% è corporate venture e per quanto riguarda il contributo appunto previdenza pensione è 6,1 su scala europea, 0,2 su scala italiana, quindi ci sono ampi margini di miglioramento. Questo significa che strutturalmente questo è un mercato sottocapitalizzato dove sono molto sottovalutate le start up e dove Mobileye fa una billion, una unicorn, mentre Bizlab come sai l'abbiamo venduta per 25 milioni a una quotata di seconda linea del Nasdaq, quindi tra i 25 milioni di Bizlab e il billion o l'unicorn di Mobileye c'è tutta la distanza operativa che ha portato anche alle misure di cui abbiamo parlato all'inizio, le misure di cui abbiamo parlato all'inizio per riassumere sono un Fondo Nazionale d'Innovazione da un miliardo che avrebbe la vocazione anche di combinarsi e combinare un'alleanza strategica con l'Europa quindi con il Fondo Europeo qui rappresentato da Pierluigi e con i grandi investitori istituzionali tutto il resto è diretto direttamente sul mercato, quindi la questione Pier, agevolazioni per le casse previdenziali, i dividendi delle partecipate, gli incentivi al ricerca e tecnologia quelli all'ex, quelli sono diretti al mercato. Grosso modo si tratta di un impatto di circa 2 billion, bisogna portarlo a caso ovviamente ci sono alcune cose che sono in itinere, partiranno anche le SIS, le società di investimento semplice per dare sfogo e per dare la possibilità di creare il vivai in base su cui costruire gli strati successivi vediamo se tutto questo funziona ma non basta che le altre componenti strutturali non faranno la loro parte. Siamo tutti molto d'accordo e dobbiamo capire quali sono le altre componenti strutturali perché credo che i punti di vebolezza del nostro sistema è questo, però quali sono i punti di forza? Qua lo chiedo di nuovo a Elisa perché ha una prospettiva tra l'altro nuova rispetto a questo fondo sullo spazio che stai guardando, tra l'altro voi venite da un'azienda spaziale, nascete, ne avete investito. Però ecco questo tema di come le tecnologie vengono utilizzate su settori diversi rispetto a quelle di provenienza che è una delle tante nuove prospettive del venture capital, come lo vedi oggi? Quello che sta dicendo lui, che è tante risorse ma dove sono i punti di forza e di debolezza del nostro sistema. Ma allora se devo cercare di riassumere, sicuramente oggi il deal flow è un problema e soprattutto sono d'accordo con quello che diceva Roberto, non tanto perché manchi la tecnologia o perché manchino gli imprenditori, ma oggi a mio avviso il problema è che manca l'unione delle due cose quindi c'è un po' di venture creation da fare, però non partiamo da zero, fortunatamente come diceva Elisa partiamo da lavoro fatto negli ultimi 15 anni, quindi in realtà siamo sperabilmente all'inizio della curva di crescita quindi sicuramente non è un puro lavoro di investimento come probabilmente in Israele i venture capitalisti in Italia devono fare un po' di lavoro operativo per mettere insieme la tecnologia, l'imprenditore magari anche un po' la strategia di go to market perché penso che tutti noi in board lavoriamo con l'imprenditore per dire ok però magari non fare così ma fare un po' colà, però è anche vero che come tutti i mercati che sono all'inizio della fase di crescita sono anche mercati che hanno grosse opportunità e in cui gli operatori possono fare molto la differenza. C'è il tema e qui sono d'accordissimo con Salvo che secondo me è il punto debole se non aumentiamo le masse investite, se non aumentiamo le disponibilità di capitale dei fondi rischiamo di PMizzare le start up, cosa significa? Che tutti noi siamo costretti a dire alla start up già all'inizio devi fare fatturato, magari devi fare un po' di margine, devi fare un po' di EBITDA questi ti guardano con due occhi così quando in Israele penso che secondo me di EBITDA proprio neanche si parli siamo l'unico paese in cui non ti fa SID, Sire 6, Sire SB eccetera ma ormai siamo tutti specializzati per fare il bridge del bridge del bridge del bridge del bridge del bridge, dove tutto è converti, può converti, può converti Scusa, io ripeto sempre le solite cose, le cose sono un po' controintuitive, per cui l'imprenditore è quello che sa sopravvivere ed emergere nella difficoltà, non dove è tutto predeterminato perché ci sono le leggi, perché ci sono i decreti eccetera eccetera, non si costruisce così un'impresa o un'imprenditore l'imprenditore nasce perché trova, o l'imprenditrice, perché trova un'opportunità, porca miseria allora questi sono i talenti che cerchiamo noi, no? Questa tipologia di talentità è buffo perché dico questo? Perché l'anno scorso a Parigi per dire al VivaTech era buffo, no? Cioè un mercato da 4 miliardi di euro, no? E noi stiamo là che dicevamo porca miseria beati questi francesi 4 miliardi di euro investiti nel venture capital, no? Allora a un panel si diceva operatori come noi che gestiscono l'accelerato, ma qua è il vostro problema? No, il nostro problema è che quando le start-up escono al programma di accelerazione non trovano i capitati, cioè voi vi lamentate, no? Ma allora noi cosa dovremmo dire? Cioè semplicemente l'asticella viene spostata, no? Più in su, più in là eccetera eccetera quindi questi problemi esistono un po' ovunque, è vero che in Italia la questione è ancora molto più bassa l'asticella però ecco tutte queste difficoltà per noi sono le opportunità, ok? Poi sì è vero c'è tutta la filiera ancora da costruire fino alla exit, no? Però allora il 2018 è stato un anno record a livello globale nel mondo del venture capital il private equity, delle start-up, dell'exit, appunto abbiamo parlato dell'Inghilterra hanno investito 8 miliardi di dollari in venture capital come? Trimestre ancora di più per dire, no? esatto, allora l'altra metrica in Inghilterra è che nel 2018 hanno avuto un anno record di exit 40 miliardi di dollari di exit, 40 miliardi di dollari di exit ma per arrivare a 40 miliardi di dollari di exit devi passare sopra migliaia di cadaveri di start-up migliaia di cadaveri di start-up su un arco di 10 anni, porca miseria quindi voglio dire, non è che la roba succede al giorno e alla notte, no? No, però ora facciamo un discorso di sistema perché quando si parla di venture capital si parla di stramiliardi, sento tutti che dicono dei miliardi, dei miliardi, dei miliardi è evidente, lo dico a voi due, che noi dobbiamo far crescere la nostra cultura imprenditoriale la nostra capacità, allora, no, lo dico perché, perché, come dire, cioè la percezione, soprattutto gli investitori istituzionali italiani che seguiamo nel tempo, è una percezione, come dire, molto disorientata perché da una parte quando si presenta un'opportunità si parla di miliardi cioè nel mondo, quindi l'investitore istituzionale dice, ma se io investo lì in teoria dovrei fare dei miliardi, poi però, diciamo, come dire, ci si trova di fronte a una qualità media dell'interlocutore molto bassa o medio-bassa perché l'attitude non è, come dire, riconciliare queste due percezioni per un investitore istituzionale non è banale, che da una parte dice io devo fare miliardi con chi? Con questo signore, che ha un tema diamo a Gilibert, poi vorrei che interveniste voi due secondo me in Italia e altrove in Europa, credo per sviluppare un mercato di venture capital e private equity ci vogliono tre componenti un convenio nazionale, soprattutto per la parte early stage, seed, tech transfer dove l'investitore istituzionale non ha interesse quindi veramente ci sono i market gaps dove l'operatore pubblico ha il dovere il diritto di partecipare per sviluppare il capitale una componente se possibile, perché siamo in Europa europea e penso che la Commissione europea da questo punto di vista è veramente molto aperta ad aiutare l'innovazione ci sono decine di miliardi disponibili solo che l'Italia non ha, abbiamo anche i fondi strutturali tipicamente in Italia non vengono spesi ma possono essere trasformati in strumenti finanziati inclusi, abbiamo fatto in Grecia 300 milioni un fondo di fondi in Grecia 300 milioni gestiti da noi che hanno catalizzato altrettanti dal settore privato quindi 600 milioni di mezzi propri nell'economia greca e poi c'è la componente secondo me fondamentale noi tradizionalmente non abbiamo mai gestito fondi di privati però le cose sono cambiate perché adesso ci siamo messi a farlo per esempio siamo andati in Cina abbiamo fatto, questo forse non è privato con il Silk Road Fund che è un grosso 250 milioni a cui abbiamo giunto 250 milioni e investiamo in Europa un agreement di co-investimento con loro ormai li abbiamo tutti spesi torno a Pechino il mese di giugno spero di triplicare io sono contenti sono soldi per il venture capital e tra i decchi europei erano iniziati dobbiamo avere dei fondi con un elemento cinese adesso la cosa è passata tra me di contenti vi ha fatto un lavoro eccellente poi abbiamo lanciato un fondo di fondi allo somministro per raccogliere dai privati un RAIF con quattro compartimenti c'è un Life Science c'è un Growth c'è un ICT e c'è un Secondario abbiamo raccolto 400 milioni per adesso tra l'altro tre spero quattro fondi italiani quindi sono fondi di privati italiani che saranno investiti in questo fondo che purtroppo non investerà in Italia c'è la Cassa Forense dentro Cassa Forense c'è la Super Consoli e non verranno in Italia perché l'Italia è incapace di generare fondi di venture capital di private equity di sufficiente qualità che io mi sento responsabile e offrirli a qualcuno che deve pagare le pensioni quindi devo offrire la creme della creme di quello che conosciamo noi come FEE quindi quelli che saranno quartile numero uno su tutti i criteri purtroppo non escludo che questi investiranno anche in Italia perché sono generalmente fondi pane europei ma non sono gestori italiani e non lo saranno per i prossimi 5-10 anni perché qui bisogna cominciare a lavorare per creare generazioni di fund manager spero sarete voi che fra 10 anni produrrete investment grade private equity eccola generazioni di fund manager loro due c'è una speranza rispetto alla qualità allora in realtà io volevo aggiungere una cosa che riguarda non solo l'educazione degli imprenditori degli start-up di cui abbiamo parlato e tutto quanto dell'attitude in realtà io quello che vedo che è un pezzettino un'altra cosa che manca qui è proprio educare gli investitori a investire in questo tipo di asset class cioè a mio avviso perché non trovano perché siete fatti fiducia io investo quando ho fiducia su cui investiamo è certo perché perché però siamo investitori fondamentali sul più grande investitore italiano della casa direttore generale della domenica sull'istituzionale però 18 miliardi di quando vai sui privati ok su family officer c'è ancora molto da fare per educarli su questa classe quindi io parlo dei privati per quanto riguarda invece il track record io sono d'accordo rispetto a questo parte ma perché abbiamo poco storico e quindi dimmi dai tu l'unico primo è Pioll ma sicuramente sicuramente è è il discorso è il discorso del di un po' un gatto che si morde la coda perché poi la generazione di fan manager storicamente o sono ex imprenditori quindi hanno fatto l'ex di successo e poi vanno vanno ad insegnare agli altri come si fa l'ex di successo dall'atto investitore o sono i fan manager che devono avere tutti i criteri quindi devono metterci il commitment quindi in primis di solito devono avere dei soldi in primis da investire quindi non possono essere giovani devono avere il track record che vuol dire più più ex di successo e questo in Italia manca e manca soprattutto anche la prima categoria no? cioè non abbiamo pochi imprenditori che hanno fatto exit negli altri paesi buona parte se guarda i general partner dei fondi in Silicon Valley tanti sono ex imprenditori che sono usciti dal portafoglio che cosa manca per fare exit l'abbiamo detto in primis l'accesso al capitale cioè primo fattore di successo della start up presta comunque l'accesso al capitale tecnologia gente brava tutto quello è sicuramente utile indispensabile ma abilitante è avere soldi da spendere per competere con poi le tecnologie internazionali secondo me la seconda cosa e ritorno al discorso di Jonathan è anche di cultura no? cioè cultura di piccola media impresa piccola media impresa cosa vuol dire? noi abbiamo visto i nostri nonni i nostri padri fare azienda in un certo modo che non è fare start up fare azienda in un certo modo come? partendo dal piccolo prendendo i primi clienti facendo il fatturato prendendo i soldi e debito alla banca e crescendo in 20 anni questo non è quello che richiede nel fondo di venture capital che è una curva molto accelerata in 5-6 anni questo cosa vuol dire? mettere dentro tanti soldi portare dentro tanti talenti portare dentro tanti talenti c'è un porno scoglio e qui c'è education da fare cioè lo vedo io nei nostri imprenditori l'imprenditore che è tecnico parte fa la prima la prima fase bravissimo quando c'è da fare scale up per raccogliere 30 milioni sul mercato non lo può fare perché non l'ha mai fatto e devo portare dentro un CEO professional un manager qualcuno e qui c'è c'è uno scoglio da superare cioè l'imprenditore di base a questo passaggio l'imprenditore italiano fa fatica ad accettarlo e l'education qui è da fare non so neanche bene come venga superata perché per quanto l'investitore si imponga se il funding team non è d'accordo questo passaggio non si riesce a fare e la cosa buona è che quello che io trovo nel mercato abbiamo tantissimi manager che vogliono uscire dall'azienda e andrebbero a fare start up bisogna trovare il modo di portarli dentro di incentivarli e di far sì che i team imprenditoriali capiscano che questo passaggio è soprattutto nel loro interesse vorrei tornare al tema del trasferimento tecnologico prima di passare a uno dei protagonisti del non vuole essere messo in mezzo però dicevo il trasferimento tecnologico perché? perché credo che uno dei grandi temi del paese stia lì cioè stia nel comprendere cosa si può fare chiamo anche in causa diciamo Salvo nel suo diciamo più recente veste proprio su questi temi perché Itatec è stata una primissima esperienza un po' l'esperienza che abbiamo fatto con Fondo Italiano ma Itatec qual è a mio giudizio il limite di Itatec non dico del Politecnico di Milano che evidentemente è un'eccellenza assoluta rispetto ma il fatto che comunque sia un sistema chiuso cioè il trasferimento tecnologico ha bisogno di un sistema aperto cioè un sistema in cui i capitali si incontrino la ricerca con modalità molto più aperte con un deal flow molto più ampio se pensiamo che per produrre diciamo qualche buona start up Y Combinator nelle selezioni a 14-15 mila puoi immaginare che evidentemente non possiamo dedicare diciamo uno sforzo a una singola università lo dico perché io sono stato la commissione spin off di ricerca come sai del CNR straordinari ricercatori ma alla fine bisognava trovare il team come diceva lui allora il problema nel nostro Paese è un problema innanzitutto normativo cioè è evidente che il rapporto tra pubblico e privato soprattutto a livello universitario è un rapporto troppo ingessato quindi va bisogna intervenire su quelli che sono i gangli normativi che consentono di far arrivare i capitali in maniera rapida efficace efficiente e c'è un problema di governance dell'università che pure è nota diciamo ed è un grande è un grande tema però ecco su questo mi farebbe piacere avere la tua la tua prospettiva che ribadisco è una prospettiva di eccellenza assoluta perché perché parliamo comunque di una delle più importanti piattaforme di attrazione dei trasferimenti dei trovati e dei brevetti nel nostro Paese sono stati un po' toccati tutti quelli che sono come dire i limiti e le criticità da superare in questo percorso noi abbiamo strutturato sostanzialmente questa che credo sia è stata un po' consacrata come prima piattaforma di trasferimento tecnologico in Italia che connette laboratori a mercato attraverso l'evento imprenditoriale tema del di flow l'abbiamo resa aperta cioè il Politecnico fa gestire questa piattaforma da Poliab e dall'ufficio di Techtransfer quindi che hanno una co-gestione nelle varie fasi ed è assolutamente aperta a tutto il sistema universitario italiano e sperabilmente ci auguriamo internazionale se qualche ricercatore mai finanziato voglia venire da noi a sviluppare impresa ad oggi abbiamo già un accordo strutturato con la Bocconi ma stiamo portando dentro altri centri di ricerca di cui oggi non posso comunicare ufficialmente ma ben presto quindi il tema che tutt'occhi è centrale anche noi capiamo che nonostante il Politecnico abbia il più grande di flow in Italia come università tecnologica chiaramente questo può non essere sufficiente secondo i tre ingredienti fondamentali che vivono sono questi innanzitutto allora Gilbert ha sottolineato l'importanza dell'intervento pubblico nella fase di trasferimento tecnologico perché il BC per cultura e per modello di business non riesce ad andare troppo indietro questo è chiaro quindi l'università ha stanziato dei grant che poi sono convertible per noi nel momento in cui si crea l'azienda ma l'università mette a disposizione dei grant per finanziare i migliori trovati tecnologici e per accelerare la creazione dei dimostratori in modo tale da renderli più finanziabili sulla filiera del venture capital e questo è un importante elemento in più ha strutturato un meccanismo che favorisce chiaramente la brevettazione tutelando sapete esiste il tema del professor privilege il tema del costo del brevetto quindi abbiamo normato bene tutta la modalità di creazione di proprietà intellettuale secondo tema importante è quello dell'imprenditorialità e del business è vero l'Italia ha smesso di creare imprenditori io come generazione lo sto osservando c'è dagli anni 60 che abbiamo smesso di fare imprenditori siamo diventati tutti manager facciamo tutti gli MBA fare tutti i professionisti e abbiamo inserito persone in aziende che stavano fallendo non rendendoci conto che in realtà la creatività italiana doveva rigenerarsi e creare una nuova classe imprenditoriale che come Roberto dice non è quella dei nostri genitori è una classe imprenditoriale diversa è la classe imprenditoriale che deve cavalcare la leva dell'innovazione noi che cosa stiamo facendo siamo stati certificati adesso lo dico tra di noi però è abbastanza noto come PoliHub abbiamo il programma di accelerazione imprenditoriale e di business a livello universitario terzo al mondo per capacità di trasformare tecnologia in aziende vive dopo cinque anni con fatturati e capitali raccolti e generazione di posti di lavoro del futuro lo facciamo in che modo abbiamo raccolto e federato 80 mentor che sono manager di aziende e o business angels che quindi portano immediatamente il bisogno del mercato nel POC nascente e stiamo cercando di creare una classe che abbiamo chiamato di entrepreneur in residence una nuova working class sono pochissimi sono imprenditori che hanno fatto exit anche piccolissime al Politecnico cominciano a esserci le nostre exit sono dei 5-10 milioni di euro però l'importante è il percorso che questo imprenditore ha fatto ha visto la fine della storia e oggi è in grado di riniziarla scrivendo una regia completa e il terzo elemento è il fondo fondamentale capitale c'è un fondo strutturale che è Poli360 nato dal progetto Itatec che a questo punto strutturalmente investe nelle azioni di preside è fondamentale il cofinanziamento perché come dicevo prima gli artefatti tecnologici sono molto costosi cioè realizzare tecnologie innovative richiede un costo elevato e quindi richiede una disponibilità strutturale di capitali che un fondo riesce a garantire è un fondo che opera all'80% dentro la nostra università quindi è impegnato è il primo fondo in Italia di tech transfer basato su un'unica università poi l'altra parte può essere investita chiaramente in altre ricerche questi sono un po' gli elementi ecco l'ultimo aggiungo è la concentrazione anche questo è un tema a me molto caro Roberto l'ha toccato l'altro elemento distintivo è che noi stiamo cercando di concentrare tutti questi ingredienti in un'area geografica limitata anzi più piccolare più sono contenta almeno c'è più scambio e quindi studenti docenti ricercatori tecnologie Poli360 capitali le nostre start-up cento noi come incubatore Poliab abbiamo cento start-up abbiamo 43.000 studenti 3.000 docenti ricercatori 250 laboratori di prototipazione adesso ci sono abbiamo un accordo importante con la Cina che sta facendo atterrare la sua subsidiary dell'incubatore cinese insomma c'è una densità di competenze di talenti che favorisce poi l'innesco e la generazione di innovazione Bovisa Politecnico però da qui si vede insomma che c'è una grandissima capacità sul settore del trasferimento delle tecnologie in Italia totalmente ancora inespressa a mio parere a parte questo primissimo elemento su cui chiaramente immagino che il governo avrà Domenico proprio su questo tema fondi pensione e casse di previdenza prima ne abbiamo parlato si parla sempre di risorse finanziarie quando si parla di loro in realtà loro diciamo come dire erogano pensione prendono contributo erogano pensione quindi hanno sempre un tema di fondo che è il loro interlocutore cioè arrivare far arrivare la pensione a chi evidentemente quindi c'è un grande tema di filosofia complessiva io che studio questa materia da un po' di tempo come molti sanno ho una certa come dire approccio io penso e lo dico prima che dire così sai già quello che penso e mi fa molto piacere capire quello che invece pensi tu che sei insieme diciamo alla tua organizzazione diciamo la cassa di previdenza di punta del sistema io penso io penso che una pensione ci debba arrivare e il nostro paese abbia anche questo problema cioè il problema di come dire alimentare una crescita uno sviluppo che nasce come abbiamo da un certo gap di tecnologia di innovazione di mancanza di investimento e quindi da questo punto di vista e lo vediamo diciamo ormai sullo schiacciamento totale dei rendimenti di qualsiasi titolo finanziario che gira in Italia compreso quelli fondi pensioni che sappiamo essere l'anno scorso stato sostanzialmente negativo abbiamo da una parte diciamo una borsa che è una borsa estremamente diciamo limitata perché parliamo di 350 titoli quotati una capitalizzazione da 540 miliardi contro borse mondiali che pochi forse sanno perché ragionano hanno diciamo dimensioni 100 150 200 volte più grande delle nostre quindi noi ci concentriamo lo dico perché gran parte non tanto delle casse previdenze ma il sistema di casse e fondi è concentrato sugli investimenti liquidi abbiamo una come dire un anismo del nostro del mercato finanziario che è straordinariamente forte allora lo dico mentre abbiamo evidentemente le opportunità enormi non solo nel venture capital ma anche nel private equity nelle società non quotate c'è in tutto quello che è il private capital italiano basti pensare per dire che la borsa di Francoforte è 45 mila miliardi e noi abbiamo 540 miliardi siamo 200 volte più piccoli allora dico è evidente che uno deve andare a trovare gli investimenti in giro per il mondo però c'è anche un tema di investimento di impatto di cosa noi immaginiamo possa essere per il nostro io dico da avvocato che evidentemente come sai si sta attivando per provare a portare in cassa forense l'idea che si debba investire anche sulle tecnologie nel nostro mondo sui giovani sulle nuove infrastrutture ecco questo diciamo questo tipo di profilo al netto del fatto che poi le pensioni vanno pagate quanto può entrare nelle corde di una cassa di previdenza o di un fondo pensione quindi di un risparmio previdenziale che chiaramente va investito io ti ringrazio purtroppo mi chiedo scusa se sono arrivato tardi ma purtroppo stavamo proprio avevo un incontro con il collegio sindacale sul bilancio quindi diciamo me ne esco con una battuta diciamo l'ente di previdenza assistenza dei medici e dei odontoiatri italiani oggi per dimensioni sia di scritti che diciamo di risorse accumulate di riserve accumulate di patrimonio è la prima cassa italiana col bilancio di quest'anno arriveremo a quasi 21 miliardi di patrimonio il problema è che quel patrimonio è un debito e questo debito viene gestito non all'interno di un meccanismo esclusivamente privatistico ma in un meccanismo che viene da una privatizzazione fatta nel 94 sostanzialmente incompiuta perché noi siamo soggetti a un sistema di vigilanza che noi ancora stiamo discutendo dopo 25 anni se la corte dei conti ha o meno la giurisdizione sugli atti vi dico questa cosa diciamo da burocrate non per annoiarvi ma per spiegarvi che alla fine tutto il nostro sistema risente del fatto che pure se vuole operare con un approccio di mercato sugli investimenti e un approccio di mercato vuol dire anche un approccio di mercato responsabile cioè rendersi conto del fatto che se il paese si trova in una situazione di difficoltà le risorse possono essere destinate in parte a tenere in piedi il sistema diciamo anche a garantire l'ecosistema per quanto riguarda le start up ma a tenere in piedi il sistema non è una cosa così scontata e così facile da fare tu facevi un riferimento e dici c'è un patrimonio molto liquido che va a impattare su quello che poi alla fine essendo una capitalizzazione di borsa ridico del paese soprattutto su investimenti all'estero però le mie autorità le nostre autorità di vigilanza ci spingono verso la liquidità c'è una vexata questo io non voglio annoiarvi ma ne devo parlare che il regolamento sugli investimenti delle casse di previdenza che ormai sono sì diciamo dal 2011 che se ne parla che sostanzialmente nella versione che ha avuto tutta una serie di passaggi consiglio di stato corte dei conti ANAC quindi vedete tutte autorità che chiaramente diciamo si interfacciano con quello che è il mercato e gli investimenti però sono i soggetti che sono stati chiamati a esprimersi su questo sostanzialmente arriva il fatto che gli investimenti devono essere per la maggior parte liquidi con un bassissimo rischio quando inviamo alla vigilanza dei ministeri il nostro bilancio tutte le lettere di osservazioni che vengono effettuate quando si parla diciamo negli ultimi quattro righe vengono fatti degli inviti e delle raccomandazioni terminano con e si raccomanda come fatto più volte presente dalla corte dei conti di astenersi negli investimenti ad adottare una politica di investimenti per cui bisogna astenersi da qualsiasi intento speculativo nel no no però lei mi deve far da qualsiasi esatto ma questo è il problema da qualsiasi intento speculativo investendo in investendo effettuando investimenti che non abbiano un'adeguata garanzia del capitale sotto il profilo della garanzia del capitale contemperando contemperando ma infatti qual è diciamo in una delle varie vicende che hanno investito le casse la teoria quando si è dovuto valutare perché era stato fatto un investimento piuttosto che un altro e che la redditività diciamo attesa non era poi stata rispettata la teoria è stata è stato fatto un danno agli iscritti perché quello è un patrimonio degli iscritti comprendi questo non è banale perché se commisurato con la redditività dei titoli di Stato al momento in cui è stato fatto l'investimento sarebbe stato non più conveniente ma sarebbe stato giusto investire ai titoli di Stato infatti che cosa c'è di più sicuro ai titoli di Stato dovete investire ai titoli di Stato allora c'è questo problema culturale organizzativo dopodiché l'Empam che cosa ha fatto no racconto che cosa ha fatto l'Empam cioè l'Empam a un certo punto ha individuato poi insomma il presidente Curti Giorgi conoscete tutti i nostri sono intervenuti individuando questo portafoglio istituzionale cosiddetto mission related che ci ha dato qualche possibilità di intervenire su investimenti meno liquidi è chiaro che attendere dal nostro punto di vista investire nelle start up e facendolo vicino alla professione ci serve anche per sostenere il lavoro perché uno dei problemi che abbiamo noi Cassi di Previdenza è che siamo legati alla contribuzione quindi noi diciamo la nostra esistenza è data dal lavoro non solo dal patrimonio quando saremo fra 50 anni un grande fondo con 50 100 miliardi di patrimonio avremo molti meno molti meno molti meno abitanti in Italia sarà tutto quanto diciamo il 14% in meno della popolazione allora andrà tutto bene potremmo ragionare con un fondo pensione una delle cose che però va detta rispetto al loro mondo allora i fondi pensione hanno un regolamento del 2014 se non ricordo male di origine europea preciso su cui si possono muovere con una certa garanzia con documento politico investimento con tutta una serie di percorsi e procedure tra l'altro sono fondi integrativi secondo pilastro quindi sono risorse sostanzialmente private mentre loro hanno comunque una garanzia semi pubblica ma manca un quadro regolamentare perché loro non hanno e questo lo dico a te soprattutto ma a tutti perché lo sappiano non hanno un quadro di riferimento entro i quali si possono muovere che è uno non è uno scandalo perché è uno scandalo attuale ma che sono sei anni che non è inimmaginabile che non si abbia diciamo una normativa per i 90 85 90 miliardi di investimento che lo riguardano ma questo prescinde poi dall'investimento in private capital io dico in termini generali di sistema e questo anche perché la loro vigilanza è esercitata diciamo da soggetti che non sono adeguatamente preparati per poterla fare questo lo dico lo dico io ma lo dico io come lo dico come istituzione non lo dico in particolare come un soggetto in particolare io però scusa così chiudo cioè è vero quello che tu dici ti dico che sicuramente noi potremmo andare sull'autoregolamentazione se avessimo una natura diciamo venisse riconosciuta ci fosse un altro sistema di vigilanza perché voglio dire se noi fossimo equiparati visto le prestazioni che diamo al mondo assicurativo per esempio è evidente che andremo totalmente in un settore privato e quindi ci regoleremo anche gli investimenti ciò non ci libererebbe uno dal problema delle regole cioè dal problema delle regole che noi dobbiamo garantire una stabilità attuariale la seconda cosa non ci dare diciamo forse ci darebbe la possibilità di investire più vicino alla professione che è quello che ci interessa ci darebbe la possibilità di aprire un mercato su quello perché voglio dire è chiaro che per me paradossalmente dal punto di vista della prospettiva di accompagnare quello che è lo sviluppo diciamo sostenere e sviluppare la professione del futuro e quindi lavorare sui flussi contributivi è più interessante spendere 100 milioni di euro in parte sul welfare e in parte sulle start up che anticipano quella che sarà la professione medica e continueranno a farla vivere nel futuro piuttosto che investire 200-300 milioni in giro per il mondo perché non mi ritorno solo che questo non è possibile sì sì ma è chiarissimo poi guarda tu parli con una persona diciamo se hai fatto tardi non vi rompo cioè tra il 2005 al 2007 ho fatto il capo della segreteria dell'assessore della regione Lazio sulla ricerca e sviluppo economico ricerca e innovazione quindi moltissime cose di cui vi avete parlato diciamo iniziavano già a girare nei convegni a suo tempo facemmo anche se poi ce ne siamo andati all'anno spantellata una legge diciamo una delle cose caratterizzanti quella di un anno e mezzo di fare una una legge proprio sulla ricerca una legge regionale forse è stata la prima legge regionale sulla ricerca investimmo molto sull'apertura di tutto il sistema pubblico di ricerca ai privati non solo per curare allora insomma si ragionava molto si cominciava a ragionare sugli spin off universitari ma soprattutto sul fatto di rendere il tessuto disponibile la ricerca privata per sviluppare nuove iniziative imprenditoriali facemmo una banca dati di tutti quelli che erano i centri di ricerca del Lazio dove tu andavi e vedevi tutti i progetti di ricerca che erano in corso cioè si fece un grosso investimento si cercò si investì sulle infrastrutture dell'università facevamo in quel momento quello che doveva fare il pubblico cioè investiamo sul pubblico per infrastrutturare il territorio perché l'idea era quella se noi infrastrutturiamo il territorio poi l'iniziativa privata parte c'erano pure una serie di leggi non ho seguito più insomma per finanziare piccole iniziative oggi secondo me c'è una straordinaria possibilità di investire i capitali privati mi permetto di dire che forse l'infrastrutturazione pubblica per rendere diciamo le autostrade ma non solo diciamo proprio le autostrade che servono dovrebbero essere un po' più all'attenzione dei decisori dei regolatori pubblici perché l'idea ci sono però se non ci sono i campi di calcio abbiamo tutti Pele e Maradona e poi stanno all'oratorio io sono totalmente d'accordo siamo in chiusura allora ma salvo e poi fai tu una chiusura per tutti beh che cosa devo dire no ma questi limiti sono noti è chiaro che serve uno sforzo in più perché comunque se dobbiamo alzare il livello dobbiamo avere diciamo tutte le voci che concorrono al funzionamento di un ecosistema competitivo rapidamente cioè anche il discorso sì le risorse sì ma anche sì è il discorso che faceva Domenico prima molti medici domani saranno dei data scientist che fa lui non investe in intelligenza artificiale database è evidente che c'è un tema che non solo è incombente imminente ma che è già iniziato no quindi se la missione dei soggetti istituzionali come quelli che Domenico rappresenta è consolidare la chiamiamola base produttiva del proprio ente tu oggi questo non lo puoi fare più con gli strumenti del passato perché cosa ne sai di che cosa sarà quella professione quel comparto quella industry tra 5 10 20 anni dobbiamo iniziare adesso a fare questo tipo di investimenti questo è lo sforzo perché poi sai quando ci mettiamo a discutere di siamo indietro siamo avanti ci vogliono più soldi meno soldi più talenti meno talenti perdiamo di vista quello che poi è l'obiettivo vero non parliamo di venture capital per il piacere di parlare di venture capital il venture capital è una cassetta degli attrezzi dobbiamo avere molto chiaro a che cosa serve che cosa ci possiamo costruire altrimenti ci innamoriamo della pinza della tenaglia del cacciavite ma poca sostanza grazie tanto vi ringrazio che dire ma sostanzialmente io riporto magari qualche cosa che si è dettata nel panel precedente perché ovviamente diciamo qui oggi adesso ci si è focalizzati in venture capital il panel precedente era in generale sullo startup act quindi sull'ecosistema allora io vorrei intanto ricordare a tutti che pronto? sì? ok che bisogna tenere presente e tenere alta l'attenzione verso i policy maker che la qualità del deal flow che arriva agli operatori del venture investing dipende dalla cornice legislativa che determina la qualità e l'attrattività dell'ecosistema su cui si opera ok innanzitutto quindi per far sì che arrivino buone opportunità ci deve essere un environment favorevole e quindi nessuno si è ancora posto oggi il problema dell'attrattività l'Italia è un posto che non attira nessuno da fuori e dove il venture investor italiani intercettano forse una parte di quelli che partono da qui ma i migliori se ne vanno all'estero direttamente neanche ci provano a operare qua che non è un solo un problema diciamo di dimensione del capitale di rischio è anche di qualità degli operatori allora qui abbiamo tutti gli operatori tendenzialmente nuovi allora un invito a tutti i nuovi operatori è quello di non lavorare in modo un po' seduto come hanno lavorato quelli preesistenti che si sono diciamo allegramente messi a diciamo a fare una vita abbastanza comoda con mesi e mesi e mesi per le due diligence quando nel resto del mondo si compete per trovare i progetti migliori quindi il salto di qualità deve essere anche nella qualità del lavoro degli operatori del venture investing e dopodiché appunto adesso si è incassata la parte del fondo di fondi mi raccomando però di tenere alta la guardia verso i policy maker che non è che si è vinta adesso la battaglia appunto ma bisogna qua no appunto adesso si adesso c'è il fondo di fondi ma bisogna lavorare perché gli ecosistemi territoriali attraggano e producano progetti di impresa di qualità ad alto impatto quindi questo è ancora veramente tutto da tale io trovo che negli ultimi anni dal 2012 ad oggi abbiamo perso un'occasione perché perché lo startup act era assolutamente disordinato cioè ricordiamoci che il venture business è uno schema è uno schema che ormai è ultracodificato e notissimo quindi si sa in che modo si deve creare questa circolarità tra talenti progetti di impresa operatori intermedi e capitale di rischio questo schema noi in questi anni non solo non l'abbiamo attuato ma ne abbiamo parlato anche in modo totalmente confusionario quindi là fuori oggi non c'è quasi nessuno che ha capito veramente come deve girare questo orologio ed è un orologio è un orologio e quindi gli ingranaggi se non sono tutti al proprio posto non segneranno mai le ore corrette se non ogni tanto casualmente incidentalmente quindi può uscire fuori l'includicorno ma perché è una casualità che si incontri che si incontri l'imprenditore o l'investitore noi dobbiamo organizzare uno schema copiando e mutuando qui perché il tutto possa funzionare non ci dobbiamo inventare niente non ci dobbiamo non ci dobbiamo